Cari amiche e cari amici abbiamo davanti Ciro Ciro Musella, ti vuoi un attimino presentare e ci racconti cosa fai questa sera? Sì, buonasera, io sono Musella Ciro, tecnico del Porto Fuori Box, stasera ho un ragazzo che debutta il suo primo match ufficiale, ha in attivo un'esibizione e stasera il suo vero match. Siamo qui a Morciano di Romagna in questa bellissima serata, diciamo che è dedicato contro il bullismo, è una bellissima atmosfera e speriamo di fare bene tutto qua. Come si chiama il tuo ragazzo? Il mio ragazzo si chiama Chiarotti Lucca, è di Porto Fuori e fa 64 kg. Qua quindi stasera è solo questo ragazzo? Sì, questa sera sì, ci stiamo preparando per altre cose ma stasera abbiamo questo ragazzo qui. Quali altri match stai preparando? Stiamo preparando un match con le nostre elite, Tata e Xelal, che tirerà il 10 maggio a Lugo dove ci saranno anche dei professionisti. Quindi tutti saremo là il 10 maggio a vedere Lugo, dove esattamente è la location? La location penso che sia la pista di pattinaggio, penso. L'unione diciamo che la fa Damiani con il suo team insieme al suo presidente Farina, Davide. Va bene, quindi tutti il 10 maggio a vedere Tata e Xelal che combatte e quindi in bocca al lupo ragazzi. Crepe, grazie. Ciao, ciao Ciro, ciao.